Dopo la conferenza stampa di carrozzine determinate con il coinvolgimento dei giornalisti e anche dell'amministrazione comunale di Teramo, continuano ad esserci le barriere architettoniche, i tempi sono scaduti, manifestazione a novembre e poi il Consiglio Comunale nel mese di dicembre. Sono passati sette mesi, peggio di una gravidanza. Sì, purtroppo le tue parole sono quanto mai veritiere. Sono passati sette mesi, il Consiglio Comunale in cui si è approvata una delibera con delle scadenze, delle tempistiche certe, c'è stato il 3 dicembre del 2015, le passeggiate empatiche con il Consigliere Comunale e con i giornalisti 4 e 11 novembre, quindi parliamo di sette mesi. Dopo sette mesi nulla è ancora nulla, non si è fatto nulla di tutte le promesse, non solo, se vi ricordate le parole del 4 e dell'11 novembre. C'è ancora molto da fare perché salire su una carrozzina e cimentarsi con le asprità del territorio, della città, ti fa capire che quello che hai fatto è ancora poco e allora bisogna fare di più. Oltre le parole, perché ovviamente magari, come dicevano i latini, verba volant ascripta manent, c'è una delibera, quindi c'è un atto con la delibera del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2015, con una serie di punti che si devono fare. Non si è fatto nulla, si è fatto semplicemente l'approvazione del PEBA, che ovviamente il PEBA però, l'approvazione è un'approvazione di un modello, quindi non è calato assolutamente nel Comune di Teramo. Se non gli dai un seguito, se non si mettono fondi sul PEBA, assolutamente il PEBA, quindi il piano per l'eliminazione delle brecchiettoniche, non serve a nulla. Questo è quanto accade a Teramo, nelle altre città invece qualcosa si è mosso, per esempio a Pescara? Per esempio, nelle altre città invece qualcosa si è mosso. Ad esempio, prendo spunto per questa domanda, a Pescara stanno per apportare una piccola modifica per la quale gli esercizi commerciali non pagheranno l'occupazione del suo pubblico se metteranno all'interno del loro esercizio commerciale una pedana per favorire l'accessibilità dell'esercizio commerciale. L'amministrazione comunitale potrebbe quantomeno iniziare con questa piccola modifica e fare questa piccola iniziativa a favore della disabilità all'interno del Comune di Teramo e cercare di non essere la cenerentola d'Abruzzo per quanto riguarda le barriere architettoniche.